ciao a tutti ben ritrovati scusate l'assenza sono stato un pochino costipato che in questo periodo diciamo non è sicuramente il massimo della vita da da fare e da dire ma cerchiamo un pochino di sdramatizzare in realtà ho avuto soltanto un po di un forte raffreddore ma ci sta visto che fino all'altro giorno c'erano 20 gradi di giorno improvvisamente sono piombati a essere due e però non mi pareva carino fare un video parlando tra uno starnuto e l'altro ma sto decisamente meglio anche se la voce ancora un pochino nasale prima di iniziare vi ricordo sempre le solite cose cioè iscrivetevi al canale e attivate la campanella date un'occhiata ai link che trovate sotto troverete il link alla pagina telegram al canale telegram di offerte fotografiche ogni giorno escono offerte fotografiche molto molto interessanti quindi iscrivetevi se non avete telegram scaricatevi e scaccartelo e iscrivetevi date un occhio anche il mio canale instagram mettete un follow potete anche lasciarmi un like un commento eccetera e veniamo a noi dunque io non volevo parlare di fujifilm questo qui è un canale lo ripeto spesso che non è dedicato a fujifilm perché io utilizzo appunto fotocamere fujifilm quindi voglio spaziare un po con argomenti che riguardano la fotografia a 360 gradi ma stavolta anche stavolta non è che puoi ignorare certi rumori certe notizie allora fatemi fare la scenetta tanto si sa qual è l'argomento l'avete letto dal titolo no provate a chiedermi qual è la mia fotocamera preferita qual è la mia serie preferita e perché rispondo alla seconda domanda dicendo i motivi che che non non sono plausibili cioè non mi piace per la sua praticità professionalmente parlando non è la fotocamera più completa in assoluto di fujifilm scusate ha diverse ha sicuramente diverse mancanze in certi momenti è stata anche un po troppo costosa diciamoci la verità e si è la fujifilm x3 che potete vedere qua la mia fujifilm x3 è sempre stata una fotocamera che mi ha stra affascinato l'ho acquistata appena uscita l'ho dovuta vendere a malincuore semplicemente perché per i lavori usavo una fujifilm x2 ho usato l' x2 e x3 utilizzare due soprattutto negli eventi nei matrimoni utilizzare due fotocamera diverse tra di loro per me quantomeno è difficoltoso è molto difficoltoso pulsanti diversi configurazioni diverse quindi mi rendevo conto che perdevo veramente tanto tempo quindi ahimè non è che puoi comprare tutte le fotocamere possibili immaginabili ho venduto l' x3 per comprarmi una x2 un'altra x2 e però poco tempo fa ho avuto l'occasione per acquistare appunto questa x3 con questa configurazione di colori nuova che non mi fa impazzere io l'avrei presa di nuovo tutta nera però mi piace e lo me la sono ripresa con molto piacere perché è una fotocamera un po tutto fare che è è piacevole da usare semplicemente mi piace è la sorella l'ho sempre considerata la sorella minore della serie x pro un po come la fujifilm xt30 è la sorella minore della xt3 l'xt20 la sorella minore dell'xt2 l' x3 con una nomenclatura diversa è la sorella minore di una di un x pro 2 quindi ragionevolmente mi aspettavo anche l'uscita di una x pro x e 4 sorella minore di una x pro 3 o quantomeno un qualcosa che ci assomigliasse plausibile una x pro 20 x pro 30 una cosa di questo tipo può anche essere però al momento giunge un rumor dagli amici di fujirumors che questa volta mi hanno un po' trapassato il cuore dicendo che a quanto pare la linea x e quindi l'x e 4 non vedrà la luce un rumor abbastanza forte è seguito comunque dalle vendite non entusiasmanti di una x e 3 che è uscita in seguito le vendite poco poco entusiasmanti di una x e 2s l'x 2s effettivamente non è stata un gran successo era una x e 2 con una s in più e qualche cosina che migliorava un pochino l'esperienza della fotocamera ma la fotocamera era bene o male era bene o male la stessa l'x e 3 in realtà era poi un x e 2 si era passati dai 16 ai 24 megapixel un sistema di autofocus sicuramente più accurato quindi l'x e 3 sicuramente era un'altra fotocamera secondo me ottima veramente molto molto buona con degli aspetti sicuramente negativi un viewfinder non all'altezza di una x e 2 ovviamente il reparto video e sistemi di autofocus un pochino più limitati altrimenti si entrava in competizione con la sorella maggiore e cioè l'xt 2 quindi e ovviamente anche l'x pro quindi tutto sommato era una fotocamera con è una fotocamera con dei limiti però con una piacevolezza d'utilizzo una compattezza un form factor che veramente me la fanno apprezzare davvero tantissimo io la trovo sempre trovato una fantastica alternativa a la x 100 f che comunque era limitata dal suo da suo obiettivo 23 mm fisso qui l'ottica intercambiabile rendeva questa fotocamera veramente molto molto più versatile rispetto a una effettivamente con l'ottica incorporata c'è da dire anche una cosa la x pro a me non è mai andata giù nel senso che lo è una fotocamera eccezionale ma ci sono alcune cose che non mi sono mai interessate più di tanto la tropicalizzazione non ho mai visto una cosa così fondamentale per quel che mi riguarda è ovviamente su una fotocamera del genere e soprattutto l'obiettivo galileiano è sempre stato per me un uno spreco di spazio incredibile obiettivo galileiano che trovo insopportabile per via del dell'errore di parallasse però io capisco benissimo che è una fotocamera dedicata a un tipo di fotografia e quindi l'ottica anzi il viewfinder ottico è una cosa che piace a molti io sto parlando ovviamente personalmente e questi giudizi sono molto personali quindi ho sempre preferito la sua versione un po più cheap un po più economica dove abbiamo un mirino digitale che è decente più che decente ci mancherebbe non è l'altezza della serie xt non abbiamo il doppio slot di memoria cosa che ripeto per una fotocamera da da utilizzo quotidiano per andarsene in giro e non necessariamente utilizzare per per lavoro va più che va più che bene decisamente ci sono altre cose che comunque non sono trascurabili una cosa che odio per esempio è il fatto che la vite anzi la sede filettata dove poter attaccare un treppiedi è praticamente attaccata allo slot della batteria quindi se devi cambiare la batteria comunque devi svitare qualunque cosa tu abbia attaccato è una cosa veramente che ho sempre detestato nelle nelle fotocamere che sembra quasi che lo facciano a posto probabilmente lo fanno anche a posto anche lo slot della della memoria è praticamente incorporato dove c'è la batteria sono sono tutte pretesti comunque per in qualche modo criticare una fotocamera che in realtà io amo moltissimo e che anche un pochino sinceramente sovrapprezzata io sono riuscito a trovare un prezzo abbastanza buono ho venduto la mia x100f a perché venduta l'avevi presa l'ho venduta semplicemente per uscita la x100v la x100f la utilizzavo ma non più di tanto quindi sarebbe comunque arrivato con i 100f un depreciamento a causa dell'uscita della nuova versione ci sta quindi l'ho venduto ho trovato modo di acquistare questa ad un prezzo umano visto che tutti quelli che la vendono usata la vendono praticamente al prezzo del nuovo non capisco onestamente come mai la carica e l'usb non è recentissima quindi parliamo ancora di micro usb non c'è l'usb c però ha un fascino veramente tutto suo ha una compattezza che fa invidia onestamente alla serie xt l'impugnatura mi piace molto è molto solida non ha i quattro pulsantini che sono così amati odiati il touchscreen onestamente non lo utilizzo più di tanto una fotocamera molto reattiva ultimamente non sta ricevendo praticamente da tempo aggiornamenti firmware un po come la serie xh ma fujifilm ha deciso di cancellarla questi sono sono i rumor mi spiace veramente molto spero che possa essere impiazzata con una fotocamera molto simile considerato che c'è una gfx che ha lo stesso form factor e alla x3 l'unica cosa che che veramente rimpiango tanto insieme alla miriade di difetti che ho elencato ma su cui si può tranquillamente soprassedere una cosa per me fondamentale è il display tiltabile quello sicuramente non intendo un display articolato mi bastava solo il display articolato e il display tiltabile verso l'alto e verso il basso è una fotocamera che ho sempre trovato molto molto affascinante dire la verità e di un piacevolissimo anche utilizzo io spero ovviamente che ci ripensino e che facciano qualcosa di simile appunto come dicevo c'è una gfx che è praticamente identica il doppio quasi delle dimensioni ma stiamo parlando comunque di un sensore medio formato parliamo anche di una x pro che comunque è una fotocamera con un form factor particolare identico questo che vende a quanto pare bene benché l'X pro 3 ripeto abbia suscitato in me qualche perplessità e qualche dubbio soprattutto per display quindi spero che onestamente il rumor sia sbagliato benché venga sottolineato che invece è piuttosto è piuttosto attendibile ma come dico sempre le grosse aziende possono ripensarci in qualunque momento non per niente l'X3 non era in programma non doveva uscire però la richiesta così alta da parte degli utenti di una versione successiva alla X2S c'è stata e Fujifilm non l'ha ignorata quindi tutto sommato un minimo di speranza ci potrebbe essere ma al momento diciamo che si pende più per il è stata cancellata ditemi cosa ne pensate perché io ritengo veramente questa sia una fotocamera bella veramente bella 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 con tanti difetti ma che vengono tutti meno di fronte all'utilizzo quotidiano con una buona lente ovviamente non le lenti gigantesche particolarmente luminose ma anche sono 27 mm piuttosto io in questo momento ho solo il 14 mm ma anche un 18 55 ottiche comunque sufficientemente compatte da rendere l'insieme di questa fotocamera più obiettivo molto molto portatile molto leggera e molto da trasporto quotidiano ed è la fotocamera che poi mi porto abbastanza in giro ed è la fotocamera insieme anche all'XF10 però l'XF10 è più una fotocamera d'emergenza ma questa me la me la me la porto lasciate appunto lasciatemi un commento qualche quel che vi passa per la testa appunto riguarda la riguardo la serie X e vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanella di dare un occhio ai canali telegram e instagram li trovate tutti sotto in descrizione noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti